due anni e mezzo io troppi tesoro ripristinato eccoci nuovo video oggi giornata strana di pulizia quindi girettino di pulizia sentieri abbiamo ripristinato il sentiero del tesoro che è carino bello fattibile da tutti poi c'è un pezzettino tecnico alla fine è stato divertente abbiamo pulito abbiamo trovato la linea si fa fattibile un po per tutti adesso bello 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 molto veloce però divertente occhio cristiano tranquillo grazie oggi sono uscito con lo zaino perché doveva pulire e sono tre quattro mesi che esco sempre col marsupio e devo dire che non c'è paragone zaino e marsupio 10 a 0 per il marsupio cioè non sei molto 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 più libero test che volevo fare da tanto non trovo mai l'occasione di riprendere lo zaino e devo dire che veramente lo zaino a meno che non si doveva fare giri lunghi non c'è più senso quindi para schiena maglia para schiena e marsupio tutta la vita perfetto ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale ciao ciao sono, si 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 il problema del ciposti è che i sceltierini rimangono sempre più piccoli bravo è tutto chiuso bella che roba questo sarebbe bello da pulire completamente chiuso ecco occhio peccato che è tutto zozzo sopra se non è carino e sarebbe da tagliare col decespugliatore c'è un calcolo della probabilità più o meno dietro sono sentito dritto non è vero è vero Tocchio Se lo tagli qui ti arriva in faccia, ti fa più male, è meglio lasciarlo. Scusi che mollino, perché? Scusi eh, lo tagli qui e che lo li molla il coglione. Vai. Lo taglio? Qui? Ma lassù come se fai qui? Scusi. Fionda, fionda, uuuh. Non sono quelle robe di pivio, no? No. Stavo appunto aspettando quello. Potrai mi clur? Forse ricorderete di me? No. 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 Grazie a tutti.